Un primo sviluppo con l'intenzione di riaggiornarsi e forse chiudere ufficialmente il tutto nella giornata di lunedì 12 giugno. Il futuro societario del Barletta Calcio resta sotto i riflettori con l'incontro avvenuto martedì sera tra l'attuale presidente Mario Di Miccoli e il gruppo imprenditoriale barlettano intenzionato a rilevare il club bianco-rosso. A sedersi al tavolo con l'attuale patron è stato Vincenzo Bellino, già in società durante gli anni di eccellenza e attivo nel settore dello stoccaggio dei metalli. Il confronto si è concluso positivamente con Di Miccoli che avrebbe ascoltato la proposta della controparte composta da un ulteriore blocco di sostenitori le cui mansioni, soprattutto economiche, risultano ancora in via di composizione. L'accordata locale sarebbe intenzionata a rilevare per intero il Barletta Calcio ma dall'incontro di martedì sera non è ancora possibile scartare le altre due ipotesi ovvero Di Miccoli ancora in sella con un contributo da parte degli imprenditori locali oppure a parti invertite, con i volti nuovi alla guida del club bianco-rosso e lo stesso Di Miccoli a fornire un supporto finanziario con l'esperienza accumulata negli ultimi anni. Quest'ultimo passaggio però potrebbe verificarsi soltanto dopo aver chiarito l'effettiva composizione della cordata che al momento non risulta chiaramente definita nei nomi, nei ruoli e nelle disponibilità economiche che verranno fornite. Resta la valutazione contabile effettuata negli ultimi giorni, il gruppo imprenditoriale barlettano ha valutato come economicamente sostenibile l'acquisizione e la successiva gestione del Barletta la cui cessione avverrebbe a costo zero. Adesso è il momento di stringere i tempi e far tesoro del confronto positivo appena avvenuto. L'obiettivo di entrambe le parti è quello di riportare la squadra nel professionismo dopo nove anni di assenza.